ai microfoni di r101 cornice di villanobel che ormai è la nostra seconda casa lo possiamo dire gazelle ciao eccomi qua ciao come stai benvenuto bene bene tutto bene sono stanco però sto bene fai vedere gli occhi dietro gli occhiali ce li ho allora adesso ci devi raccontare se sei stanco solo per il lavoro anche perché le notti sono brave no devo dire che sto facendo il bravo quantificami e spiegami il tuo concetto di bravo beh che comunque finito tutto la sera cioè mi bevo una cosina tranquilla e vado a dormire non prestissimo perché purtroppo soprattutto quando canti c'è pure l'adrenalina e poi dipende a che raganti eccetera però però devo dire che sto facendo il bravo cioè se avessi fatto sanremo tipo dieci anni fa era diverso quindi è arrivato nel momento giusto della mia vita sì come ti sta vivendo questo sanremo basta lo sto vivendo bene sto cercando di raccogliere solo energie positive solo cose positive devo dire che sono molto felice perché il pezzo sta andando benissimo oltre ogni mia aspettativa e poi devo dire avevo ero molto spaventato da questo palco e da tutto questo come ti è sembrato è un invece devo dire pensavo peggio cioè in senso io alla fine poi quando salgo sul palco sto abbastanza sereno ovvio mi avevano avvertito sul fatto che sarebbero stati comunque giorni impegnativi molto densi di impegni però prima mi hai detto una cosa quando ancora i microfoni non erano accese molto bella mi hai detto il momento in cui canto è il momento più bello più rilassante tra virgolette paradossalmente sì anche se ovvio che ogni volta poi quei dieci minuti prima di esibirti un po d'ansia sale però è un'ansia veramente positiva cioè io nella vita ho assaporato anche l'ansia negativa devo dire che questa qui a sanremo non ce l'ho avuta e anzi quando salgo sul palco mi emoziono tanto e sono veramente a mio agio in questa in questo pezzo che porti a sanremo hai detto proprio di voler arrivare a farti conoscere ad entrare ancora nelle persone che non ti conoscono l'ho trovata una cosa molto umile da dire perché in realtà e i dati lo dimostrano da chi ti viene a vedere i concerti hai avuto un tour molto lungo in realtà appunto sei conosciute tanto la gavetta l'hai fatta l'ho fatta l'ho fatta e sono contento di averla fatta perché mi ha mi ha regalato insomma tante esperienze mi ha mi ha mi ha temprato e infatti negli ultimi sei anni sono partito da i concerti in imposti da 300 persone e fino all'estate scorsa che ho fatto lo stadio olimpico esatto e quindi è stato tutto molto propedeutico diciamo c'è ogni esperienza che ho fatto mi ha portato a fare l'esperienza dopo in maniera più serena e con più esperienza quindi anche qui a sanremo arrivo in maniera piano piano no senza ogni volta una cosina in più e questo festival per me è quella ciliegina sulla torta in più diciamo senti c'è qualcuno di questo saremo che condivide il palco che condivide la gara con te che ti senti amico con cui condividi diciamo un percorso che magari va al di là di quello musicale lavorativo si si vabbè fortunatamente quest'anno conosco veramente quasi tutti no dai big no che che ascoltavo quando l'amicizia un'altra si beh amicizia si diciamo siamo più conoscenti no però devo dire che per esempio l'altra sera prima di fare la passerella eccetera stavamo sotto a un tendone tutti insieme no e li abbiamo chiacchierato e mi sono trovato molto bene a chiacchierare con con i rama anche coi ragazzi del volo e poi vabbè ci sta rose che ho presentato ieri che comunque ci conosciamo da poco ma insomma mi sta molto simpatica e poi c'è mamood che gli voglio super bene poi c'era vabbè non era in gara però c'era mengoni che è tipo mio fratello infatti l'ho abbracciato tanto senti oggi è sabato questa sera la finale ieri sera siete andati sul palco con la cover insomma con le vostre cover e tu hai portato un classicone romano proprio da cantare a squarciagola che è notte prima degli esami perché questa scelta ma notte prima degli esami con fulminacci esatto notte prima degli esami è un pezzo che non ha bisogno di presentazioni come antonello venditti d'altronde e la mia idea era quella proprio di omaggiare venditti omaggiare una canzone che ha fatto la storia di questo paese alla fine che tra l'altro quest'anno compie 40 anni dall'uscita quindi era un modo per celebrarla e anche per celebrare roma perché alla fine sia io che filippo che venditti siamo tutti romani allora volevo portare un po di roma quelli curia bravo hai fatto bene alla grande prima di salutarci c'è una persona l'ultima persona che chiami prima di salire sul palco va fondamentalmente la mia ragazza perché è la mia persona preferita grazie di essere stati i microfoni di r101 gesella ciao ciao